Mi chiamo Elena, frequento la terza liceo e vivo in un piccolo paese vicino a Imola. Mi chiamo Luca, abito nella cittadina di Imola e frequento la quarta istituto tecnico. Mi name is Reshma, I am 16 years old, this is where I live. My name is Vishak and today you will be in my house. It's a beautiful day. Accidenti, mia sorella mi ruba sempre il bagno grande al mattino, mi tocca andare in quello piccolo. Adesso mi bevo un po' di latte col cacao e mangio i biscotti. Quali? Quelli senza niente e non li guardo neanche. Cacao e nocciole o granelle di zucchero. Zucchero. Che storia lo spazzeglino elettrico? Niente più fatica da farci dentro. Se storia lo spazzole non li guardo in Ruan��ra. non andare a casa, anni fa, aveva una scuola e dopo che non muove la mano e come ogni giorno la mia madre prepara la città in la città è una casa viva e è sempre toccato la famiglia prima di fare la città io prendo la città e prendo la città no, odio la sveglia dormirei ancora mille ore non ci sono i miei biscotti preferiti stamattina mi mangerò una fetta di torta mia mamma è già uscita con la sua macchina per fortuna mio babbo lavora vicino alla mia scuola e quindi non devo aspettare la corriera mi sa che anche stamattina sto facendo tardi siamo come una grande famiglia mi piace molto i miei amici e i miei amici e her nome è Beena ogni giorno Beena ogni giorno Beena entriamo e ci si chiama me e le mie amici e le mie amici ho prendo la mia uniforme e le接to per fare la mia e le mie amici le mie amici ogni giorno la mia amici prepara It is a tradition in Kerala that we take bath every morning and then we drink the chaya. I like looking good on time. So it takes little more time to comb my hair and makeup. Sometimes my friends help me to get prepared if they are ready. My favorite breakfast is dosha with chicken curry. Dosha is made of rice. Now I finished 10th standard and I am waiting for the admission card to the plus one class. Normally at 8.30 I leave from my house and go to school with my friends. But in these days me and my friends have to go to my school to check for the admission card. I like to go to school soon. I have time to change two words with my friends before the lessons. And then when I'm going to brush the badge to sign the presence, at least there is no limit. How beautiful! This morning we have Kimi who is waiting for a laboratory experience. Finally it's 8 o'clock and me and my friends leave home and reach the tuition center. Sometimes if we are late, we go by the autoric show, a small open terminal. Conference 5 ... ... ... ... Che bella questa esperienza, ogni sostanza ha un colore diverso, sembra proprio di fare i fuochi d'artificio. Eh sì, sono proprio nei retali, per l'ennesima volta, ma tanto il prof non si arrabbia mai. Mi piacciono le lezioni di moscato, e poi con la lavagna elettronica si segue benissimo. Quando finiamo la tuccia, è come la niente. And after that, we are ready to go to school. My school starts at 9.30, but before we are attending assembly, it's gathering together of all students to pray and do some small yoga exercises. 3, 4, 5, 6, relax. Om. Om. Ammur Duhasvaha Tassabiturvarenyam Hargo Devas Yadimati Ammur Duhasvaha Tassabiturvarenyam Hargo Devas Yadimati After that, lesson starts. Finalmente c'è intervallo, così posso andare al bar e scegliere cosa mi chiede. Mi va di mangiare questa mattina. Panino, pasta al cioccolato, pizza, cioccolato. Ora ho tre ore di laboratorio meccanico. Dobbiamo preparare le medaglie della scuola. Sono le due, sto morendo di fame e vado a pranzo dalla nonna che mi farà di sicuro trovare un bel piatto di tagliatelle. Ciao nonna, ciao. Adoro la nonna. Guarda qua che piattone di roba. Spero di riuscire a finirla tutta. e i'eri spedla di fare il piatto. Pfff. It's almost 12.30 e i'eri. it's lunch time. After washing our hands, we will sit together and eat the lunch that we brought from the home. I miei tornano a casa solo la sera ma mi lasciano sempre qualcosa di pronto da scaldare con il microonde In the evening I like to go out with my bicycle And after coming back, I eat Sometimes my mother and friends also join me And we watch tv or play games Or go to my grandmother's house to visit her School finishes as 4 o'clock And we reach Namaste by bus At 4.30 And until 6 o'clock, it's our leisure time I like very much the snacks Me and my friends always like to eat some snacks after school And also talk with each other while eating In the girls' home, we wash our clothes ourselves During my leisure time, I usually wash my uniform Or sometimes I play As I don't have school in these days I have more time to play Che figato sto gioco Un'altra partita Tanto per i compiti basta poco Ora devo sbrigarmi a fare i compiti Che poi ho la partita Dopodomani e venerdì Invece c'è solo allenamento Per fortuna con la tavoletta grafica Si fa davvero presto a fare disegni After finishing my rest, I go to study And do my homework until 8 o'clock Some of the girls study in their room Like me Others study with the teachers that helps them Sometimes we finish studying earlier And we stop and talk with each other And share our secrets Or we play some games Before 8.30 I will be in my home Because normally we eat the dinner at 8.30 It's almost dinner time And we are happy to eat all together Sometimes there will be power cuts And we finish our dinner Under the candle lights Il martedì è la cera della pisa Accidenti So che anche oggi non ho fatto in tempo a fare i compiti We eat dinner together And while eating We will watch TV Or talking with each other Most of the times My mom prepares rice for us With some fried fish And some coconut curry Today is a special day One of my friends birthday And we are happy Because we are having cake Oh che bella serata And we'll have to lendermi un gelato in centro And we'll see who's in giro And we'll see who's in giro So Panini Then Veena will come and switch off the TV And we go to bed It's already 10 o'clock And it's time for us to go to bed I like talking with my brother And sharing our day I always pray before Going to sleep And thank God For giving me a new house With a lot of friends My mom will come to switch off the lights And wishes Good night And we'll see you How much time is it? Tomorrow night It's better to go to bed Before I say goodnight to my friends After that I close my eyes And it take me some time for me to sing I say goodnight to my friends 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 Grazie a tutti